Il territorio del parco sembra davvero essere fuori da questo incubo chiamato coronavirus che si è vissuto negli ultimi mesi. Le guarigioni aumentano ogni giorno e fra non molto potremo vedere gli attualmente positivi scendere a zero. Altra guarigione nel Cilento si tratta della donna di perdifumo contagiata circa tre settimane fa. Il suo caso non ne ha prodotti altri nel paese cilentano dopo i due tamponi di conferma è stata dichiarata guarita dall'ASL. La comunicazione della guarigione è arrivata questa mattina al comune perdifumese. Inoltre sono stati effettuati altri tamponi sui familiari della donna dopo 17 giorni e anche questi sono risultati tutti negativi. Pochi giorni fa era guarita anche l'infermiera agropolese del San Luca di Vallo della Lucania. Nel territorio al momento restano tre positivi ad Agropoli e uno a Casalvelino a San Mauro Labruca. Il Vallo di Diano è stato uno dei territori della campagna maggiormente colpiti dal Covid-19 ma ad oggi la situazione si è quasi completamente risolta. Su 154 casi totali nel comprensorio ne restano meno di 10 attualmente positivi al virus e anche Sala Consilina, il paese con più casi, ha registrato tutte guarigioni. Continua lo screening a tappeto sulla popolazione con migliaia di tamponi effettuati.